Lui traduce Ma io sono straniera, sono italiana Traduce Allora, ha detto che vuole fare un'intervista Cosa vuoi sapere? Wind the course of the world Ma se io non lo bevo in italiano, cosa mi dice? Ha detto se le può dare due pezzi di salsiccia No No Of the world of the course Ah no, salsiccia salsiccia, sorry Allora, ah sì, la strada per la caserma Vai avanti, gira a destra, a sinistra E ci surto la caserma, vai Go in front of, e turn left Grazie Pantaleone Cognome Morano Ci racconterà una barzelletta Allora, c'è Pierino che tutte le mattine passa davanti alla chiesa E il parco gli dice Pierino, ma quando è che viene ogni tanto a messa? Cioè, ma io c'ho da lavorare, c'ho da andare ai campi E da raccogliere la frutta, tutte queste cose qua E dice, vabbè, ma una mattina, fatti libero una mattina Una mattina passa, si ritira con un gesto di uova E passa davanti alla chiesa E il parco gli fa Pierino, non puoi entrare un momento a messa Ma non posso, vedi, c'ho le uova da andare a casa e conservarle Non ti preoccupare, portateli dentro Che te li guarda Dio Gli fa No, perché dice, e se qualcuno me li ruba? Non ti preoccupare, c'è Dio che te li guarda Va bene, entra, posa le uova dietro la porta Ed entra A un certo punto il parco, facendo la catechismo Chiede a tutti, parte del catechismo Vada Pierino, dice Pierino, mi sai dire dove è Dio? È dietro la porta che mi guarda le uova Grazie Numero tre, votate Va bene? Tre Grazie mille Cosa mi date di che mangi? Sei vinci No, non lo so, sei vinci C'è sotto a fine video, vedrete Ciao Ci vi piace